Davide, sei stato a Roma all'International Launch Aprilia come rappresentanza per Robi's Garage e hai avuto anche la possibilità di provare la nuova Tuono 660. Raccontaci qualcosa. Guarda, è stata un'esperienza molto divertente, un evento ben organizzato in massima sicurezza, tutte le persone dovevano fare il tampone prima o chi non l'aveva fatto aveva l'opportunità di farlo in loco e la Tuono 660 mi ha stupito, è subito tua, è molto facile, considera che poi io ho la 1100 Factory del 2017, ma naturalmente non ho la stessa cavalleria, però non gli manca niente, ti puoi molto divertire, è un bel mix tra una moto che ti fa fare la sgasata e una moto che ti fa andare anche tranquillo quando fai i viaggi all'interno del paese. Tra l'altro c'era una coppia, un padre e una figlia e ho chiesto per curiosità per poi diffondere agli amici come era a stare in due, considera che è stata un'oretta, un giro, un'oretta e un quarto tra i colli urbani, bellissimo panorama tra l'altro e la ragazza dietro anche abbastanza alta mi ha detto che si è trovata bene un giro di un'ora, però ti direi, credo sarebbe proprio la mia moto se non avessi già una Factory 1100 perché è perfetta, ti diverti ma puoi anche divertirti solo con l'idea del viaggio, bella bella bella. Grazie. 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 Grazie.